Bene, eccomi ritornato con l'episodio numero 2 e qui è la MOAB in Sit Town. Beh, Sit Town come dire? Sit Town? Non vedo molti MOAB in giro in Sit Town perché è una mappa abbastanza chiusa. Qui spiego perché ero qui perché stavo coprendo il mio compagno che gli era suonato per bagno il telefono e era tipo a 12-15, non so, chi definirà un specialista. Poi l'arma è la solita classica MP7 e beh, come sempre di tutti i video che farò, credo userò questa perché dopo ho anche altri 5 volte, non lo so. Però è la migliore arma e io l'abbinerei come sempre a un fuoco rapido e caricatori mentati. Poi i bonus sono quelli principali, il gioco di prestigio come tengo io oppure anche sciacalle dall'inizio. E poi vabbè, il gioco di prestigio è ovvio. E il terzo bonus, beh, piacimento vostro perché è un predatore o, beh, il filetto di tomba, che sono molti parecchi che mi piacciono. Io qui te ne ho predato a sole, però, e poi nell'especialista assassino, sciacallo, il filetto di tomba, che tengo io. Poi, beh, per fare una mobili in sit-town, vedi, queste qui sono le casette dove io giro perché secondo me si hanno C, si hanno B, come adesso hanno preso, sto qui da queste parti perché loro fa un chilo da qui. Poi, se hanno A, come stanno prendendo, eh, neanche parlo apposta, stanno prendendo A, vi consiglio di girare qui in queste, in queste vie, quelle centrali. E dopo ogni tanto uscire a schiacciare gli amici, anche se avete dei vostri compagni, quindi, dai, vi possono aiutare. Ah, e stavo dimenticata che c'era tuo, mio fratello, non si è dimenticato del nostro canale, ma giovedì e venerdì metterà due episodi di un gioco che adesso non dico perché è una sorpresa. Comunque per me sarà davvero interessante perché non è molto conosciuto, cioè, conosciuto, però ormai è passato di moda, quindi, beh, vedremo se piacere a voi. Io, poi, non so, metterò sempre episodio, come ho detto, che è un episodio veramente bello, l'episodio 5. Continuo sempre col Call of Mob, ma ogni tanto metterò anche, tipo, partita in live con, beh, col cecchino, cioè, col cecchino, con assalto, cioè, se volendo si può prendere anche una mob con assalto. Ecco, per chi non ce la fa prendere una mob con assalto, oppure non si vuole, si diverte più con le ricompense, tipo, con l'off, beh, si può fare così comunque, perché, però, tenendo impossibile, perché, con gli assist, con me, tipo, ogni due assist prende anche io. E se ricompense, con i riper, per i glove, oppure, qui me ne mancavo un po' che stavo giocando insieme a due miei amici, veramente, che mi hanno aiutato, perché, qui, vedi, mi chiamavo Lowab, beh, ho capito, molto utile. E poi, voi potete anche dirmi cosa, che video potrei mettere, anche, vi armi, perché io ci proverò per voi, lo posso provare, oppure, tipo, anche, qui prende la mia nuova, eh, mi dite voi che video volete, perché per me io metto tutto. Beh, il video sta quasi per finire, quindi, restate sempre connessi con il nostro canale, perché arriveranno veramente, cose veramente molto belle, sempre di più. Beh, il video sta quasi per finire, quindi, inizio a salutarvi. Allora, vi chiedo di iscrivervi e dire, per favore, ai nostri amici di aiutare e vi saluto. Ciao ragazzi! Ciao!